Grande successo anche in Umbria per invito a Palazzo, al quale ha partecipato anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, che tramite l'iniziativa organizzata dall'ABI giunta alla sua quindicesima edizione, ha aperto le porte di Palazzo Graziani. Dalle 10 alle 19 è stato possibile visitare lo storico edificio situato in Corso Vannucci, sede della Fondazione, anche con quattro visite guidate e gratuite. In occasione di questa particolare giornata, che in tutta Italia ha visto l'apertura di numerosissimi palazzi di banche e fondazioni bancarie italiane, abitualmente chiusi, l'ente perugino ha anche deciso di presentare il nuovo dipinto inserito nella sezione Caravaggismo del percorso espositivo I Tesori della Fondazione, allestito a Palazzo Lippi Alessandri. Si tratta dell'opera Santa Francesca Romana di Giovanni Antonio Galli, detto lo Spadarino, avuta in prestito dalla Fondazione per l'istruzione agraria.